Mr. Secretary, per quanto riguarda le donne palestiniane e bambine hanno stato ucciso dall'Israele da settembre 7? Sono più di 25.000. La conferma di Austin arriva mentre Washington spinge per un cessato il fuoco nel giorno in cui oltre 100 persone a Gaza sono morte mentre cercavano di prendere degli aiuti umanitari.